18 maggio 2023. Il ministro dei trasporti Matteo Selvini in un incontro con l'assessore ai lavori pubblici della regione Sardegna Pierluigi Saiu promette un'accelerazione nella progettazione e sblocco della strada 125 e 133 bis la Holbierschena-Palao-Santa Teresa. Costo 475 milioni di euro. Giugno 2023. Il vice premier questa volta in un vertice col presidente della regione Cristian Solinas alza la posta e serve sul piatto un assegno da 30 milioni di euro per coprire l'aumento dei costi ma non serviranno solo per la strada più attesa del nord Sardegna ma per diverse opere tutte commissariate che attendono il taglio del nastro del primo cantiere. Nel frattempo il sindaco di Arzachena Roberto Ragnè da filma il traffico di giugno sulla 125 e 133 bis con l'evidenza dell'inversione proporzionale tra i tempi di percorrenza che salgono e il livello di sicurezza che invece precipita. La storia della strada un tempo inserita anche tra le opere strategiche del Cipe è nota anche al ministero delle infrastrutture dove giace un documento di sintesi che ne evidenzia l'importanza il valore e la fattibilità. La realizzazione dell'infrastruttura in oggetto è indispensabile si legge tenendo conto dell'inadeguatezza del collegamento esistente e della sua importanza territoriale. I criteri di dimensionamento corrispondono all'esigenza sia di fattibilità tecnico-economica che di quantità dei livelli di servizio. Il territorio attraversato, chiude il documento, non presenta particolari specificità dal punto di vista ambientale. Questo è quello che c'è sulla carta, il lato pratico invece è diverso, inchiodato ad un progetto che attende gli atti finali per uscire dal cassetto della scrivania ministeriale e diventare asfalto.